ciao a tutti oggi voglio fare due note sopra la mia nuova backing track è una balla demi minore 80 bpm che potete trovare al termine di questo video come schermata finale andrò ad usare una simulazione di amplificatore che si chiama fuchs di brainworks io lo uso per su piattaforma oad che è simile al famosissimo costosissimo e bellissimo ods 100 d'amore adesso vi faccio vedere questo qua vedete anzi visto che ci sono adesso faccio vedere anche la sezione del cab che sono andata ad usare non so se riuscite a vedere comunque ho usato il cab è quello uno dei tanti cab diciamo presenti di fabbrica non ho usato ieri di terza e parti vediamo cosa salta fuori non ho usato Grazie a tutti 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 Grazie a tutti